ben ritrovati a tutti buongiorno buona settimana qui da Radio Rosso Nera è il ventisette marzo un lunedì e quindi ricominciamo i nostri mattino Milan del insomma delle ore dieci torniamo in in diretta con voi torniamo in collegamento con voi in questo lunedì che aprirà la settimana che ci porterà poi a San Paolo anzi al Maradona a questo punto di Napoli per Napoli Milan di campionato perché è la prima delle tre partite di eh di questo mese di aprile che si giocherà contro il Napoli Enrico Boiani ciao ciao buongiorno buongiorno a tutti ben ritrovati Henry pausa nazionali nel pieno del del suo essere weekend quindi senza partite di club qualche partita nazionale è nata in scena l'Italia ha fatto una vittoria una sconfitta ma di questo non parliamo parliamo tra poco delle nazionali che purtroppo qualche giocatore ce lo restituiranno nel pieno della forma ma ne parliamo come hai detto tra poco parliamo subito in apertura invece Henry di quello che è eh l'apertura di gazzetta dello sport ovvero il mister tutto il Milan compioli serio lavoratore autocritico il club stretto al suo tecnico Scaroni garantisce fiducia intatta la società appunto ad andare avanti insieme è sicura del quarto posto allora eh vabbè questo è un po' un titolo nato sulle parole di Scaroni ieri che parole delle quali insomma prendiamo prendiamo ovviamente atto ma insomma sono parole di 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 inizio aprile io sono sempre abituato a pensare agli allenatori solo e soltanto sui risultati purtroppo va così eh se un allenatore porta i risultati va avanti se un allenatore inizia a non portare i risultati no eh è la più classica legge del del mercato in questo momento l'allenatore del Milan è Pioli bisogna ovviamente stare insieme a Pioli e dare tutto il supporto a Pioli perché abbiamo ancora due obiettivi da raggiungere cioè tornare in Champions League l'anno prossimo e giocare il più possibile la Champions League di quest'anno poi come detto i risultati decideranno tutto quanto sì eh diciamo che io posso anche essere d'accordo con queste parole di Scaroni o meglio con le prime due serio lavoratore in realtà quest'anno abbiamo spesso detto delle come dire del fatto che le partite sembrano essere preparate meno rispetto alla scorsa stagione rispetto anche a due stagioni fa però insomma che abbia fatto un grande lavoro Pioli è in dubbio eh in questi in questi anni bisogna sempre capire una cosa secondo me oltre oltre risultati e io posso anche capire che come dire che la dirigenza sia con Pioli che Scaroni sia con Pioli cosa più importante è capire se la squadra è con Pioli se il gruppo è con Pioli è quello che fa la differenza è quello che è come dire la discriminante per eventualmente proseguire con Pioli o meno cioè non a me non interessa onestamente se come dire se Scaroni supporta Pioli se Maldini supporta Pioli o quant'altro bisogna capire se i 25 26 28 quanti sono che si allenano con lui tutti i giorni sono con Pioli e questa per me è una cosa più importante punto uno punto due sull'autocritico virgola virgola ecco perché è vero che nell'ultima partita contro l'Udinese abbiamo sentito un Pioli che ha detto ho sbagliato non sono riuscito a trasmettere l'importanza della partita è anche vero che in tutte le precedenti che nel mese di gennaio che nelle uscite a vuoto soprattutto con la Salernitana soprattutto con la Fiorentina abbiamo sentito tutt'altro ecco cioè l'autocritica è arrivata contro l'Udinese nell'ultima partita in parte perché comunque Pioli è sempre stato un allenatore che come dire non si è nemmeno mai nascosto nel puntare il dito oserei dire non è mai un non è stato un allenatore che si è sempre messo in prima linea e poi eventualmente andava sui giocatori è successo anche spesso il contrario ecco quindi posso essere in parte posso essere d'accordo con queste parole ma soltanto in parte allora è il momento ovviamente di non pensare ad altro è il momento di di viversi la stagione per quanto possibile al meglio poi insomma le stagioni quando finiscono si tracciano sempre le linee ma ne parliamo come detto a a fine stagione di quello che sarà il rendimento del Milan la sua settimana scrive gazzetta lì in basso a destra Napoli all'orizzonte le ha dare generale e difesa a quattro quanto lavoro nei prossimi giorni perché c'è la possibilità concreta che il Milan smetta con questa fantomatica difesa a tre lì in basso invece a sinistra vedete questo cioè lo specchietto dei suoi rinnovi di contratto che l'ho portato poi a guadagnare fino a qui addirittura quattro e mezzo mettono quattro e mezzo fino al trentagino del duemilaventicinque qui forse ci siamo fatti un po' prendere dall'inesperienza da da vabbè era un periodo quello di ottobre novembre dove poi è maturato il rinnovo dove iniziavano a girare qualche voce qualche voce possibile di un suo interesse della juve per lui ci siamo forse fatti un po' prendere con l'acqua la gola ma vabbè abbiamo fatto questo bel rinnovo corposo ma non è questo l'oggetto del contendere di oggi io andrei velocemente subito sulle nazionali perché nazionali come spesso accade purtroppo ci ridanno qualche giocatore non particolarmente in forma Ibra si ferma Calullo invece va a KO salta entrambe le partite di eh under ventuno e quindi torna direttamente in Italia non aspetta nemmeno che si giochi la partita contro la eh la Spagna e torna per fare gli esami vediamo un po' cos'ha questo polpaccio di Pierra ieri Radekrunic si era sparsa la notizia anche dai media bosniaci che avesse un problema ma alla fine ha giocato 90 minuti quindi prendiamo il buono della notizia se ha giocato 90 minuti è perché probabilmente ha smaltito il problema mentre Ibra no Ibra Ibra si è fermato e quindi il Milan insomma ritorna a lavorare quanto meno con un titolare vediamo che è Pier in dubbio e Pier è un titolare importante perché se non ricordo male è proprio il giocatore con più minuti in stagione è una brutta tegola questa come si suol dire in questi casi più che altro perché è incredibile come mondiale a parte ci sia stata credo una pausa nazionale oltre a questa o se non addirittura è l'unica questa e perdiamo giocatori perdiamo dei pezzi sembra quasi una barzelletta perché no abbiamo sempre detto noi bisogna stare attenti alle pause nazionali bisogna stare attenti alle pause nazionali e appena accade perdiamo due giocatori è come dire è così le nazionali ci sono sono importanti per i giocatori tra l'altro non si snacchi si stanno giocando delle amichevoli ma si stanno giocando le qualificazioni al prossimo europeo alla prossima coppa d'africa insomma la prossima cup america tutte queste cose qua e quindi ci può stare ci può succedere che che i giocatori si fermino è successo di nuovo con dei giocatori importanti è successo ancora una volta ma speriamo bene vediamo oggi l'esame di pierre cosa diranno a proposito invece di nazionali ha parlato della ritira della nazionale char de chietelare non le andiamo a leggere perché ve le leggo io qualcuno qualche passaggio di di pierre e poi si di pierre di charles e poi chiudiamo con con l'ipotesi morata caro r si diciamo di chietela ma in realtà molto verte su quello che è il suo il suo essere in customamento al milan nel suo il suo approccio alla stagione a milano al gruppo eccetera eccetera il fatto che qualche difficoltà l'abbia l'abbiamo incontrato in questo mese sono stati sicuramente i mesi negativi non erano nelle mie aspettative dopo un'ottima stagione al bruges avrei sperato di essere più importante di quello che sono stato finora ci sono tanti motivi uno è l'ambiente un livello di caccia superiore l'adattamento a tante cose la vita fuori dal campo anche se poi nella parte finale dice non voglio derubricare tutto a i problemi di ambientamento non può essere solo e soltanto quello ammetto che in maniera nell'altra mi arrivano i commenti negativi ma non mi sono mai focalizzato sulle critiche tanti compagni di squadra mi hanno consigliato di non leggere i giornali stai cambiando è vero sto cambiando ultimamente sto curando di più il mio corpo in una maniera molto più professionale prima e dopo gli allenamenti mi prendo più cura più che i tempi del bruges non vorrei far credere appunto che questo sia il motivo dei miei delle mie prestazioni negative l'adattamento credo che come già detto ci siano vari motivi e poi parla un po' del rapporto con Maldini lo spogliottoio che è unito ti pesa non aver segnato e fatto assist è certo che sì non ha senso dire il contrario insomma ne viene fuori il ritratto di un giocatore che sta cercando di di migliorarsi ma con delle difficoltà perché come ha detto lui stesso è negabile ci sono tre due tre aspetti che stanno andando a intaccare le sue prestazioni oltre a questo Henry dopo vediamo ciò cioè le parole del suo ex allenatore dal punto di vista tattico qui e charlontop da te di tempo io però lo vedo seconda punta io sono d'accordo cioè questo ragazzo qua non è mai stato un trequartista non è mai stato un trequartista e ti dirò di più per come lo intende Pioli per come l'ha sempre inteso il Milan negli ultimi anni è proprio la cosa più distante si può imparare a farlo perché le caratteristiche volendo ce le avrebbe però è stato a questo punto e sarebbe controproducente cioè non c'è stato un doppio errore sia nella valutazione di un Milan senza un centrocampista in quella posizione lì e quindi pensando che inserendo un trequartista le cose potessero cambiare dal punto di vista la qualità ma anche una valutazione forse sul suo ruolo perché lui trequartista forse non l'è mai stato trequartista per come lo intendeva Pioli e quindi c'è stata una sorta di doppio scalino non solo il mettere un trequartista ma il mettere un trequartista che poi in fondo forse trequartista non è è ancora di più in avanti quindi ormai questa stagione è andata così credo dubito che The Keter possa esplodere tra tre settimane un mese non lo so magari succede però io penso che archivieremo questa stagione di Charles come stagione di apprendistato come stagione che un po' in tanti hanno fatto da noi ovvero in cui capisci che giochi a San Siro capisci che cos'è il Milan, capisci le difficoltà, l'ambiente, le pressioni, i giornali, le critiche, capisci a che a che punto si è arrivato dal punto di vista mediatico di ambiente e quant'altro lo passi tra virgolette come una sorta di via crucis per poi come dire essere a un livello superiore l'anno dopo io mi auguro che possa accadere questo queste sono le risposte appunto del suo ex allenatore sembra timido ma non lo è l'ottave lavorava forte calmo e rispettoso ma odia perdere molto competitivo è un vincente con me aveva fiducia in se stesso so che ha sbagliato gol clamorosi ma so anche che sa farli è uno che non fa festa la sera e fin qui lo sapevamo è Charles ha un aspetto positivo è questo per me è una seconda punta anche se può giocare a destra sembra lento ma è veloce è abbastanza veloce scusate è stato un errore del Milan assolutamente no di chietelare sarà un top player se si adatta all'impatto fisico e questo gli serve un anno migliore spererà molto poi parlo appunto di un esempio di David Neres che lui stesso voleva portarlo all'Ajax ma non non se ne è fatto nulla ha parlato con lui recentemente no solo all'inizio stagione mi diceva che era di fronte a un grande passo posso dirvi che ne è stato provato appunto a portarlo all'Ajax non mi ha fatto neanche andare avanti voleva soltanto il Milan io come detto su Charles in questo momento per me è semplicemente inutile giudicarlo stiamo giudicando delle non prestazioni a parte che a livello di minuti stiamo giudicando delle non prestazioni perché ormai da tre mesi a questa parte stiamo giudicando degli scampoli di partita dei subentri e forse un paio di volte a titolare non di più sì istituzioni tra l'altro non bellissime perché gioca titolare contro il suo suolo gioca titolare a Firenze con mezza squadra fuori e con l'altra mezza che pensava al Tottenham io non avrei semplicemente la smania di dare no esatto aspettiamo è giusto dire che questo ragazzo alla prima stagione abbia deluso le aspettative se le aspettative erano quelle di un giocatore che pronti via arrivava e ti dava un impatto importante e ha fatto fatica questo si può dire indubbiamente crocifiggerlo no ecco perché a tempo e modo per poter dimostrare le sue qualità come tanti avrà bisogno di tempo aggiungo io che per un ragazzo di questo tipo dal punto di vista caratteriale era pronosticabile e quindi aspettiamo chiudiamo così morata si può siamo in chiusura questo mattino milan finisce qui ci dispiace non parlerno sto scherzando cessione beh in realtà è più o meno così cessione risparmi la cassa rossa nera per arrivare ad alvaro morata allora su morata dal milan e cosa che non accade spessissimo onestamente filtra una smentita secca completa cioè che non interessa per nulla ed è per questo motivo che morata sarà milanello il 4 di luglio ah non lo so questo non lo so però registriamo la smentita speriamo di smentire smentiamo poi ne proveremo a capire un po di più al di là delle delle smentite di facciato oppure semplicemente sono vere chi lo sa perché le smentite purtroppo arrivano spesso e quindi a volte sono semplicemente di facciata e non devi capire bene come quando sono vere oppure no in questo momento vi riportiamo quello che cioè c'è una smentita secca su su morata poi vediamo un po come andrà a finire la la vicenda dove lo mettiamo eri nel caso punta esterna sinistra dove lo mettiamo diciamo in chiusura con questa mattina non lo so non lo so simon cioè andare avanti ancora un buon giocatore morata a me non dispiace nemmeno sono onesto però c'è vabbè non lo so non lo so io io mi auguro di meglio mi auguro di prendere di meglio per l'attacco del milano nel 2023 che hai olivier giru anni andrebbe per i 37 punto perché non prendiamoci in giro che hai orighi ai rebici ai bra hai olivier giru fine della storia se vogliamo affiancare la morata va bene io andrei a comprare un attaccante per bene e sti grandissimi puntini puntini del budget delle cose e quant'altro poi non è così non sarà così si prenderà magari un giovanissimo si prenderà uno che speri possa fare il botto va bene io non farei così arrivati a sto punto perché rimandi un anno rimandi due rimandi tre rimandiamo va benissimo e il budget e i conti e prendiamo De Ketelare prendiamo x e y e ma l'investimento lo facciamo in difesa e ma l'investimento lo facciamo sulla destra bisogna far gol un attaccante da 25 gol 20 25 gol quando lo compriamo e soprattutto potrà mai essere morata che non penso abbia mai segnato più di 20 gol o 22 in una stagione non so quanti nemmeno grazie a cemina e ringrazio a te ci ritroviamo tra poco ciao sì mi raccomando lasciate like diteci la vostra nei commenti su De Ketelare su morata su nazionali e quant'altro e iscrivetevi attivate la campanella per le notifiche andatevi a vedere il video di consigli per gli acquisti milan prendi lui a proposito di attaccanti perché ne ho consigliati un po' grazie a tutti per essere stati qui con noi il lunedì di radio rosso nero va avanti con chiama milan andrà avanti con il lancio col talk e con filo rosso nero delle 19 grazie a tutti a domani grazie a tutti